PEGI 18 Un tempo era uno di loro, un sacerdote del drago. Era il loro emissario qui. Dominava Solstheim. Ma egli non servì i drachi. Li distrusse. E come loro intende ritornare. Un sacerdote del prendatore, un pittore come al sol e il bustore di un vero scupaggione. Non credevi di essere l'unico, vero? Egli fu il primo. Sangue di drago. Iliffrata Iliffrata Grazie a tutti.